Metodus è un corso di latino per il biennio rivolto in modo specifico agli studenti del liceo classico. Consente puntuali riferimenti alla lingua e alla civiltà greca per favorire già dai primi anni i collegamenti latino-greco previsti dal nuovo esame di Stato. Il volume di teoria è utilizzabile dallo studente fin dall'inizio grazie alla perfetta corrispondenza delle frasi d'esempio con la trattazione nei due volumi di esercizi. La sezione dalle lingue classiche all'italiano attesta la permanenza di termini e modi di dire della cultura classica in uso nell'italiano corrente. Nei volumi di esercizi schede di morfosintassi si alternano a esercizi su due livelli di difficoltà. Il primo verifica l'apprendimento delle regole teoriche, il secondo potenzia le capacità di traduzione grazie alla presenza di numerose versioni. Ciascuna unità si chiude con una verifica delle competenze che si articola in verifica per livelli, base, intermedio e avanzato, recupero, potenziamento. Testi a confronto latino e greco, esercizi di traduzione, comprensione e analisi di testi nelle due lingue sul modello del nuovo esame di Stato. Obiettivo certificazione per allenarsi ad affrontare il test di certificazione della lingua latina. Il primo volume di esercizi si chiude con un ampio repertorio di versioni di ricapitolazione generale. Gli aspetti principali della vita sociale, culturale e politica dei romani sono trattati all'interno di accattivanti inserti illustrati. In ogni percorso lo stesso argomento viene analizzato anche in riferimento alla vita sociale e culturale dell'antica Grecia. Gli inserti si chiudono con attività finalizzate a testare le competenze. Anche le rubriche competenze lessicali aiutano i ragazzi a prendere confidenza con lo studio integrato latino-greco, attraverso analisi comparative nelle due lingue. Entrambi i volumi di esercizi sono corredati di pratiche schede riepilogative dei principali argomenti di morfosintassi. Il secondo volume di esercizi si chiude con incontri d'autore, un'antologia dei più significativi autori latini. I brani sono in lingua originale, seguiti da un'approfondita analisi operativa. Sono presenti batterie di esercizi interattivi e autocorrettivi supplementari per ogni unità. Gli inserti di civiltà contengono approfondimenti in PowerPoint e video, attivabili con DeaLink. L'app dei verbi latini, scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet, contiene numerosi esercizi per ripassare, esercitarsi e autovalutarsi. Il corso si compone di tre volumi, uno di teoria e due di esercizi per il primo e il secondo anno e di una ricca guida per l'insegnante.